La fissiamo con le viti FFS e la cassa magna. A seconda del tipo di muratura serve una determinata profondità di presa della vite sulla muratura. Ad esempio un calciastrutto minimo 2 cm, mattone pieno minimo 4 cm e muratura forata minimo 6 cm. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS